ciao benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo video nella vostra fumetteria di fiducia trani con sempre tante novità dato che davete il settimana scorsa è slittato tanto domani ci sarà un altro video prettamente action figure o anzi fanco chissà un sacco un sacco di fanco pure belli pesanti pure belli belli non vi spoilerò niente pesanti sicuri non risponderò niente perché oggi è riparto tutto fumetti o tanti arretrati soprattutto però vi devo subito cacciare una bomba bellissima è geniale è quello è quello che state parlando stamattina copertina fantastica e questa è l'immagine di ogni cattolo animato su il paperino e in più è il paperino che dorme la sequenza della collezione del papero più rilassato al mondo però è il mio personaggio infatti uno è mio e me lo metto proprio sul letto bellissimo 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 ci manca solo malacchia il gatto suo pure con il giornale perciò ci sta se stavo col fumetto era proprio era proprio il top davvero il topolino in mano però è figo poi come dimensione 10 per 11 ma non è male sono in vita tanti maschietti detto questo raga detto questo raga continuiamo che tra capisci dopo ciao c'è che no beh in tecnica ci sarebbero un di cose da dire ma meglio non di andiamo a vedere sicuramente ho visto 72 numeri bellissimi di uno dei miei fumetti preferiti senza loro da togliere agli altri però è il momento di premiare naruto e non vediamo l'ora che c'è il segue che è potuto proprio un altro tipo il sequel di boruto perché finito voluto next generation inizierà a blu vortix blu vortix blu vortix blu vortix fighissimo 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 spettacolo e io sto già avanti ok è bello che c'è la gente che vuole vuole rispondere non quelli che vogliono sapere no 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 a dire puoi parlare con alcuni vabbè non riesco a metterlo devo faccio no no tu fai c'è insomma c'è magari al contrario saccola sacco come solo quello cioè però l'unico commesso no giravi questo è un verso di te eh sì ok ok no no solo quello lascia stanno ok 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 ma io miro per l'amico chi la che salutiamo andate a fare con azione adesso il bar o bellissimo consigliatissimo da me fumetto che non è socio ma non mi viene mai lo slice for life slice of life life slice no però non lo so più mai oh mai oh mai oh mai cosa slice of life eh ho capito e se dici 64 cose in si grazie mi like e ricordatevi che è il vulcano ha eruttato questo cliente lo voglio bene no lascia sto non va niente un voluto non va niente vagabondo naruto c'è insomma questo perché l'hai girato era uno e uno con 103 mortissima sta superato di si è fatto superare davanti c'è tu lo sai la storia già n per l'amica rossa no costa fortissimo questo è mio poi sapi e si però rotto naruto vagabond un altro poi sapi un altro vagabond tanti altri vagabond e poi fm a la deluxe la deluxe tanto novità bello sia 10 a bello credo caramella variant dico consigliato anche dall'amica margherita ai jugger caramellis abbiamo un fm a vecchio sì e sono i volumi a agli amici 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 mamma mia sul gp si litiga non c'è pietra crucis x bellissimo è bellissimo però cattivissimo mi sa stavano però non è rossa tezzuara bellissimo pure cosa manca aspettando che è il guerriero ma il fma vabbè abbiamo visto come sempre un sacco un sacco come 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 via mauro che già dice meno uno sta aspettando un altro fumetto che ha già mauro ti devo bloccare su whatsapp card captor sakura numero 1 come 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 via abbiamo preso bisogno sono comprati completa comunque l'ho ripreso anche i primi consigliato andate ciao ragazze ciao giochi preso più di uno fma poi abbiamo altri slum no altri slam dunk jujutsu altri fma ecco voglio dire gli altri con il fma fortissimo o padawan i caro 1 gol numero 5 un altro a no questo è kingdom come come kingdom come questi sono il castello di poverini quali giusti e se scusate un po di poverini che dormono e andiamo con l'occhio dell'oscurità deadpool cattivissimo sangue ok per l'amico andrea è ritornato il giro del logo si vabbè però è sempre così questo è peggio davvero un ballare in verticale questo in orizzontale ai bellissimi questi fumetti di deadpool secret wars per l'amico l'amora se lo vuole ancora e poi una crisi a forza la velocità ok questa parte fuori serie che abbiamo preso i pacchi da 5 di pop per chi vuole poco i fan originali ovviamente chi vuole la preview della termina a questo film un mostro giusto per ok ok c'è ancora domani mostro abbiamo ripreso tutto blitz tutto uscettora la leggenda di odes e poi i primi quattro volumi gto 20 per l'amico chila da un sincino sen e poi per me mi manca gli se li colleziono tutti fumetti roberto saviano noi due ci apparteniamo senza amore violenza tradimento della vita e boss vabbè comunque sono tutte crime però di storie reali che in italia pensate prima che scriveva a voi certe cose rimanevano solo nella nel cittadino invece adesso sono diventati di rivelanza rilevanza nazionale come tutto il resto raga come sempre ci trovate qui tanto tanta roba domani altro video bello grosso e poi eventi tornei abbiamo messo tutto uno calendario per tutto giugno e così ci sarà tante sorprese penso che ti avrete detto tutto ci vediamo al prossimo video bello grosso